Sono Loviso, Mazzotta, Diuric, Mattute, Khalil ed il giovane Barbuzzi gli ultimi acquisti del crotone calcio. Inoltre la società ha riscattato dal Giulianova a titolo definitivo il terzino migliore ed il giovane Gubinelli che però resterà in Abruzzo sino alla fine della stagione. Infine per quanto riguarda le uscite registriamo quella di Aiman Napoli che si è accasato al Verona e quella di Beati scambiato con Khalil dal Frosinone. Cinque calciatori di buon spessore a disposizione di Corini che potranno contribuire a riportare il crotone nelle parti alte della classifica a cominciare da Modena in una partita delicatissima proprio per le posizioni delle due squadre che marciano appaiate a 29 punti. Da tutto ciò ne viene fuori un centrocampo rinforzatissimo dall'Oviso e Mattute con Diuric e Khalil anch'essi centrocampisti ma dalle spiccate doti offensive che contribuiranno a rendere pericolose le tante azioni imbastite e poco finalizzate. Quattro i gol rifilati dalla S. Croton alla Lazarese. Una vittoria che ridà fiducia a tutti e che potrà consentire alla formazione di De Santis di lottare sino alla fine per evitare i play-out. I suoi ragazzi oggi hanno disputato la partita perfetta se così si può dire. Sì finalmente è un periodo positivo per noi. Questo 2011 è iniziato veramente bene. Tre vittorie un pareggio insomma sembra fare un altro campionato ma rimaniamo sempre con i piedi per terra perché il nostro obiettivo rimane piazzarci bene nella zona play-out. Siamo consapevoli che in queste condizioni ci toccano i play-out e quindi cerchiamo di puntare più in alto possibile. Poi se dovesse venire qualcosa di più ben venga ma partita dopo partita dobbiamo giocare con questa intensità, con questa grinta e soprattutto con questa voglia di vincere. Oggi penso che l'abbiamo dimostrato. Una partita a senso unico 4-0. Tantissime occasioni anche sbagliate. Frutto di un lavoro abbastanza impegnativo da parte dei ragazzi. Ce la stanno mettendo tutta e ce la metteremo tutta fino alla fine. Mister avete conquistato 10 punti nelle ultime 4 partite. Cos'è cambiato rispetto al giorno d'andata in questo Croton? Sicuramente è cambiato lo spirito con cui affrontiamo le gare. Il girone d'andata ci ha condizionato un pochettino la stagione passata. Avevamo perso un pochettino di umiltà ed è fondamentale in questo campionato affrontare le squadre con la determinazione giusta. Nelle ultime 4 gare ho visto una squadra affamata e i risultati sono arrivati. Se continuiamo così penso positivo nei confronti della squadra. Grazie Mister. Forse un risultato troppo severo per i suoi anche se il Croton ha meritato la vittoria oggi? Il Croton ha meritato sicuramente la vittoria. Noi purtroppo con le tantissime assenze siamo venuti qui. Avevamo impostato la partita in una certa maniera. Abbiamo tenuto per 25 minuti poi purtroppo quel tiro da fuori non so se ha rimpallato sulla gamba di qualcuno. E' entrato. Poi al posto di cercare di far finire il risultato del primo tempo sull'1-0 ci siamo sbilanciati come spesso succede e abbiamo preso il secondo gol. Io posso soltanto fare un grandissimo applauso ai ragazzi che sono venuti qui oggi. Avevamo tre ragazzi dell'Under-18 e poi tutti i ragazzi che fino a questo momento hanno giocato poco, hanno trovato pochissimo spazio. Sono stati in gamba, sono stati bravissimi. Purtroppo il calendario è stato un calendario strano quello che è capitato a noi perché mentre nel girone d'andata tutte le trasferte lontane le abbiamo avute in casa, tutte le trasferte vicine le abbiamo avute fuori casa. Il girone di ritorno ci troviamo in una situazione molto difficile. Ho parecchia gente, parecchi ragazzi che lavorano, che non possono muoversi prima di un determinato orario. Se qui pensiamo oggi mancavano sei persone, cinque fanno parte del quintetto base. Non posso venire a giocare una partita, uno scontro diretto, una partita fondamentale come questa con un quarto di squadra. Ripeto, ragazzi che sono stati bravissimi, hanno messo l'anima, non hanno tirato indietro il piede. Il Croton, a prescindere da tutto questo, ha meritato la vittoria. Prova la botta, parte Macrilò, il tiro è il gol, è il gol, ha segnato lui, mister eleganza Giovanni Macrilò.